Dante U Cilentano si chiama così il progetto proposto ai ragazzi delle classi seconde dell'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo, ideato dal professor Romeo Messano, già preside dell'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo, e da Carlo Cammarota, noto poeta in vernacolo, che vuole valorizzare il dialetto cilentano attraverso una serie di incontri volti a far rapprezzare e capire l'importanza delle radici di un territorio come quello del Cilento, con la lettura o l'interpretazione di opere letterarie, tutte tradutte in vernacolo. Abbiamo ideato questo progetto Dante U Cilentano, abbiamo coinvolto l'istituzione comunale, abbiamo coinvolto più scuole, sono state scelte le classi seconde e una volta al mese ci incontriamo. Come abbiamo suddiviso questo programma? Allora parlando di Dante U Cilentano abbiamo pensato la Divina Commedia, quindi alcuni passi io li leggevo in italiano e lui li traduceva in dialetto. Poi come seconda lezione abbiamo pensato ad Alessandro Manzoni, con i passi dei Promessi Sposi, con la stessa tecnica. Io leggevo e lui, quindi questo per invogliare i ragazzi a rivedere quel passo, quel brano, quel capitolo. Poi dopo siamo andati nello specifico più, che ha colpito di più i ragazzi, come la lezione di oggi, ha trattato tre canzoni, tre inni, l'inno d'Italia, la leggenda del Piave e la spigolatrice di Samp. L'ultima lezione che sarà a maggio vorremmo vedere le canzoni cilentani. Come hanno risposto i ragazzi? Sono interessati a questo nuovo progetto che li vede proiettati nella cultura antica del nostro territorio. Veramente ci hanno seguito con un interesse enorme. Perché? Perché nel nostro dialetto ci sono le nostre tradizioni, è chiaro, e ci sono delle espressioni dialettali che sono insostituibili. Sono circa un trent'anni che scrivo in vernacolo. Perché, le ripeto, nel dialetto c'è la nostra anima. Ci sono delle sintesi, ecco, ci sono delle espressioni che solo in dialetto possono essere rese. Perché se le vogliamo tradurre in lingua perdono di forza, perdono di significato. Il dialetto è importante. Giustamente, l'italiano deve essere la lingua nazionale, ma il dialetto deve essere la lingua madre. Perché nel dialetto ci siamo noi, ci sono i nostri padri, i nostri nonni. C'è tutta la nostra cultura e questa la dobbiamo rispettare. Obiettivo finale di questo progetto sarà la realizzazione di un testo intitolato Dante Uccilentano, che racchiuderà tutte le parole che i ragazzi riusciranno a recuperare attraverso i nonni, memorie storiche dei giorni nostri. Abbiamo scelto le classi seconde perché, in modo che l'anno prossimo possono continuare, cosa prevede il progetto? Una serie di attività didattiche nel laboratorio musicale, dove ci sono questi due esperti che parlano in cilentano e poi i ragazzi a casa, presso i nonni, faranno altre ricerche di altre parole e attività svolte nell'antico cilento, per poi praticamente passare a una stamba di un libro con tutti i vocaboli cilentani e scritto in cilentano. I ragazzi di oggi si stanno perdendo queste cose anche perché, giustamente, si perdono nel tempo anche perché non tutti i bambini possono utilizzare i nonni oppure gli anziani che come una volta ci trasmettevano queste informazioni. Si prospetta nel futuro, nella realizzazione, insieme ai ragazzi, di un libro, quindi di un'opera in dialetto cilentano, fatto proprio dagli stessi ragazzi. Quindi noi, come amministrazione comunale, siamo sempre pronti a queste nuove iniziative e soprattutto proprio per sponsorizzare il nostro territorio, che è quello del cilento, di non far perdere le vecchie tradizioni, soprattutto di far sì che vengano trasmessi ai nostri ragazzi e che loro poi siano i portatori nel nostro futuro anche alle nuove generazioni.